Come si è conosciuto con Giacomo degli Innocenti? Come si è conosciuto con Giacomo degli Innocenti? Hanno chiamato noi che siamo ormai operativi nel mercato della custom installation da 15 anni e serviamo la dealer base più vasta d'Italia sia nel mercato marino e residenziale, hanno chiamato noi per aiutarli a penetrare in queste nicchie di mercato e a far sviluppare anche commercialmente questi prodotti fantastici. Quindi tu ti occuperai principalmente della distribuzione a questo punto dei prodotti per il mercato residenziale, ho capito bene? Tu però della distribuzione ma soprattutto del supporto, progettazione e quant'altro per seguire tutti i custom installer che vogliono inserire nei loro progetti non solo residenziali ma anche marini, quindi il mercato dei super yacht, questi prodotti Samsung, ovvero che rappresentano l'alto di gamma della produzione e dell'ingegneria della Samsung. Ma non solo residenziale e marino ma anche e soprattutto le sale cinema private. Te sai Emidio che noi abbiamo una storia lunghissima ma The Wall è il primo prodotto pensato per sostituire il videoproiettore all'interno di una sala cinema. L'unico scoglio diciamo fino ad oggi è stato il prezzo, cioè oggi che Samsung ha una serie di tagli gigantesca a questo punto perché si parte anche al di sotto dei, cioè a cavallo di 100 pollici, 110. Diciamo che il The Wall ha la sua applicazione migliore nel taglio da 146 pollici, il The Wall nasce 146 pollici a salire, quindi 250 ed oltre, ma oggi abbiamo anche dei tagli a 110 ma soprattutto il concetto tecnologico introdotto con The Wall, ovvero questa supremazia tecnologica del micro LED sta per arrivare in un formato più televisivo.